Terra Amara, svolta inaspettata e l'arrivo di Sevda I fedeli spettatori di Terra Amara si apprestano a seguire una svolta inattesa nelle vicende che coinvolgono due personaggi chiave della sopopera. Unkar, in lacrime, chiederà perdono a Zulia per tutto il male che le ha fatto e lei accetterà di riabbracciarla. Gli spettatori faranno inoltre la conoscenza di Sevda, l'amante del signor Adnan, da sempre nemica di Unkar e complice di Demir. L'arrivo di Sevda in Terra Amara Le vicende prendono una nuova piega quando Demir decide di portare via dalla tenuta i suoi bambini per evitare che Unkar li faccia incontrare con Zulia. Tuttavia, grazie alla piccola Uzum, la signora Yaman scoprirà il nascondiglio di suo figlio e si ritroverà faccia a faccia con Sevda, la donna che si è presa cura dei suoi nipoti. Unkar apprenderà con sgomento che Demir aveva affidato il piccolo Adnan e Leila a Sevda, l'ex amante di suo marito. Il passato riaffiorerà con prepotenza, ferendo Unkar. Che accuserà Sevda di aver sempre voluto distruggere la sua vita. Sevda, a quel punto, rivelerà che Demir le ha sempre voluto bene ed è sempre stato in ottimi rapporti con lei sin da quando aveva 17 anni. Ero la madre de cui tuo figlio aveva bisogno e lo sono ancora, dirà Sevda a Unkar, che soffrirà nel sentire queste parole. Prossime puntate, Unkar interrompe i rapporti con Demir. Il conflitto tra Demir e Unkar sarà al centro dell'attenzione. Dopo aver scoperto che suo figlio considerava Sevda come una seconda madre per molti anni, Unkar deciderà di non volerlo più vedere e lo bandirà dalla villa. Al suo ritorno a casa, Demir verrà respinto dai suoi stessi servitori e, affrontandoli, si troverà improvvisamente faccia a faccia con sua madre. Unkar non esiterà a puntare un fucile contro suo figlio, tenendolo lontano dalla sua casa. Demir tenterà di giustificare il suo rapporto con Sevda, sostenendo di aver onorato soltanto la volontà di suo padre, ma Unkar non accetterà le sue spiegazioni, non voglio più vederti. A quel punto, Demir vivrà sulla propria pelle quello che aveva fatto passare a Zulia poco prima, verrà cacciato via, ritrovandosi senza casa e senza figli. Unkar chiede perdono a Zulia in lacrime. Le anticipazioni di Terra Amara svelano che nelle prossime puntate Unkar interromperà il suo rapporto con Demir e parlerà con sua nuora, Zulia. «Siamo stati ingiusti con te, ti abbiamo fatto soffrire, mi sento malissimo», dirà la signora Yaman, sinceramente addolorata per le proprie azioni passate. Zulia ammetterà di aver sofferto, ma comprenderà anche che per proteggere i propri figli si può arrivare a fare qualsiasi cosa, e quindi deciderà di perdonare sua suocera. La riconciliazione tra Unkar e Zulia segnerà una nuova fase nelle vicende di Terra Amara, che continuerà a tenere incollati alla TV gli spettatori con nuovi colpi di scena e sviluppi inaspettati. In conclusione, le prossime puntate di Terra Amara promettono di essere ricche di emozioni e di cambiamenti radicali nelle relazioni tra i personaggi. L'arrivo di Sevda e il conseguente sconvolgimento nella vita di Unkar, Demir e Zulia terrà gli spettatori con il fiato sospeso, curiosi di scoprire come evolveranno le vicende in questa appassionante storia.